30 poliziotti in meno nei prossimi anni e la questura di Piacenza, di fatto, trasformate in un commissariato di provincia. Questo bisogna aspettarsi dagli ultimi decreti del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, secondo il sindacato di polizia SIULP, che denuncia una tendenza preoccupante. I rappresentanti dei lavoratori spiegano che entro il 2027 è prevista una riduzione di personale di oltre il 20%. Piacenza avrà 163 poliziotti con 102.000 abitanti, esattamente come Aosta, che però ha 34.000 abitanti. Peccato che la nostra città abbia anche il polo logistico più grande del sud Europa, in continua espansione e una popolazione straniera importante, rileva il sindacato della polizia. Sembra che dietro alla scelta di tagliare sul personale ci sia il fatto che a Piacenza i reati sono in costante diminuzione, ma finora fa notare il SIULP. I risultati sono stati il frutto di enormi sforzi, con la sottoscrizione di orari in deroga al contratto di lavoro, migliaia di ore di straordinario e un'attività investigativa a 360 gradi. L'ufficio immigrazione è uno di quali oggi in maggiore difficoltà nella questura di Piacenza per la carenza di operatori e così anche chiedere il passaporto può comportare mesi di attesa. Il sindacato è pronto a dare battaglia.